E c'è un altro accordo importante, quello firmato a Roma dai rappresentanti delle autorità portuali di Livorno e Piombino, alla presenza del ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio e del presidente della regione Rossi. Il primo passo verso l'integrazione dei due porti è la realizzazione di un unico sistema portuale toscano sulla scia di quanto già avvenuto per gli aeroporti di Firenze e Pisa. Tra i progetti ritenuti strategici, la realizzazione a Livorno della piattaforma Europa, il raccordo ferroviario intermodale tra i due porti e il potenziamento della rete viaria dell'area portuale di Piombino per collegare direttamente il porto alla A12.